Ben tornato. Oggi è venerdì 25 febbraio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Cuore ricchissimo, ben più del portafoglio. In altro i cuori si dice per incoraggiare, ma voi non ne avete bisogno, il vostro ha già raggiunto la vetta del Mont Bianco, anzi, dell'Everest, niente meno che 8848 metri. Merito vostro ma non soltanto, piuttosto del grande Giove appaiato al romantico Nettuno, per non parlare della caliente e solida coppietà Venere-Marte in se stile. Insomma, in fatto dei sentimenti siete i più ricchi di Jeff Bezosso e Lon Musk, ma quello che fa acqua, prevedibile, perché state spendendo troppo, è il portafoglio, con la luna dalle mani boccate in seconda casa, resa ancora più ingenua dalla quadratura di Giove, che sei dall'un alto vi supporta dall'altro vi ostacola. Se poi ci aggiungete le rate del mutuo, rammentati da Mercurio e Saturno in quadratura, così come tutti gli errori del passato compiuti nel passato, dovete ammettere che siete ricchissimi d'amore ma poveri in canna per tutto il resto. Ma poiché avete cervello, volontà ed energia, chi se ne frega dei soldi, che nella vita di ognuno vanno e vengono come fantasmi? Meglio puntare su valori autentici. Fedeltà in amore, buona intesa e dialogo nella coppia. Uomo attraente, buono, fedele, generoso e sincero, che ispira simpatia e fiducia. Potrebbe essere l'innamorato, il marito, il partner, il fidanzato, l'amante perfetto. Obiettivi concreti raggiunti o raggiungibili, progetti interessanti che si realizzano. Stabilità grazie a un uomo che incontrerete e chi vi darà sicurezza e aiuto. Aiuto da genitori e parenti, da superiori e da colleghi esperti e fidati. Non avete motivo di essere gelosi, eppure fate di tutto per esserlo, i vostri dubbi sono completamente infondati e vale la pena riflettere se conviene angosciare la persona che vi interessa con le vostre gelosie. Oggi cambierete idea su molte cose e in particolare qualcosa che riguarda l'amore, vi sentite cinici e pronti alla vendetta. Ma in serata tornerete miti come agnellini, in fondo vi piace immaginarvi diversi. Dovreste recuperare da quel senso di stanchezze che da un po' vi pervade, dedicatevi a qualche hobby, coltivate qualche passione, fate dello sport. Insomma cercate di distrarvi e distendervi preoccupandovi di avere dei momenti solo per voi. Un vostro collega oggi sarà particolarmente insopportabile, sarete insofferente a tutto ciò che farà. Tenete a bada la lingua e prendete tutto con pazienza. Favorevolmente attivate gli incontri, le comunicazioni e i brevi viaggi. Cerca di frenarti nel primo e spese. Difficoltà nei rapporti con stranieri o persone di altre città. Oggi sappiate ascoltare gli altri, non giudicate subito e cercate di interpretare nel modo migliore ciò che gli altri vi diranno. Se proprio necessario, con tanta calma e pazienza, cercate di chiarire subito. Forse speravate in una lista di cose da fare più breve, tuttavia oggi cercate di portare a termine quelle più importanti. Cercate di credere di più in voi stessi. Gli amici veri sono rari, fate pulizia su Facebook e non offrite i vostri segreti, piccoli o grandi che siano, ai primi che vi chiedono l'amicizia. Se siete sposati procurate di stare più tempo con il partner senza trascurare i vostri impegni. Ne uscirete rafforzati nell'amore e vedrete orizzonti nuovi. Momenti di grande serenità e in amore per le nate nella prima decade. Avete il fascino giusto per proporre una uscita e per fare in modo che non vi si possa rifiutare. Andate sempre avanti con nuovi progetti, poiché gli stimoli non vi mencano. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Si apre un nuovo giorno sul finire del mese di febbraio che gratifica tutti voi scorpioni. Il sole è ospitata nel segno amico dei pesci e vi dona una fase di buon umore, di percettività riguardo anche all'ambiente circostante. Ottime le indicazioni in famiglia e nel settore in genere dei rapporti interpersonali. Soltanto tenete a bada il vostro pensiero ideologico, politico, sociale e non intavolate preferibilmente discussioni che vi potrebbero trascinare in lunghe diatribe e polemiche. Lo scorpione è, in linea di massima, segno di battaglie politiche e ideologiche potreste trovarvi invischiati nella necessità di prendere posizione nette di cui potreste poi pentirvi. Lo scorpione potrà guadagnare qualcosa in più soprattutto in termini di comprensione e affetto, tra oggi e domani vorrei che tutti quelli che hanno una bella storia la rivelassero. E coloro che hanno qualcosa da dire non tenessero dentro parole importanti, quelle stesse parole che probabilmente sono mancate in un rapporto agli inizi di questa settimana. Non rinnegate le vostre vecchie abitudini, tanto meno le vecchie compagnia, gli errori e i rimorsi. Vi hanno portato, tutti insieme, ad essere la persona che siete oggi, oppure, la persona che sapete non voler essere. Da qualsiasi angolazione guardiate al vostro passato, esso può sempre avere due letture, una positiva e l'altra negativa. Voi propendete per la seconda, ma in realtà bisogna guardare solo alla prima. Contrariamente alle vostre abitudini la luna odierna in seconda casa spende parecchio. Può trattarsi, su richiesta di Mercurio e Saturno in quadratura, della rata del mutuo oppure di riparazioni urgenti nel vostro appartamento, o ancora, come invece piace alla coppia Venere Mercurio in se stile, dell'auto dal meccanico o della bici da ricomprare dopo che Manole sta fatto sparire la vecchia. Dolci ispirazioni e parole romantiche dono del trigono acquatico di Giove e Nettuno, col partner siete pappa e ciccia, quanto al sogno di avere un pupo. Potrebbe avverarsi molto presto. Amore ed Eros. Se in famiglia avete avuto problemi o dispiacere è il momento di metterci una pietra sopra, prendere coraggio e andare avanti. Vi attendono svolte piacevoli, quasi un risarcimento di giorni difficili, fortunatamente ormai superati. Qualcuno vi vuol bene e ve lo dice senza mezzi termini, avete la stima e il rispetto di tutti, perciò è arrivato il momento di pacificarsi e di guardare al futuro con ottimismo. Il faccino dei vostri figli è roseo come la speranza. Quest'oggi siate particolarmente inclini verso nuove esperienze e persone apparentemente diverse da voi. Non è il momento di rimanere troppo fermi sulle solite posizioni e capirete presto perché. Luna e Venere, Nettuno e Plutone, in angolo positivo entrambi, vi allietano questa giornata da mattina a sera, insieme con la persona che vi fa abbattere il cuore. Se siete single non vi mancherà la compagnia, oppure riuscirete in imprese amatorie molto ardui, grazie alla forza della vostra seduzione, specie se siete nati nella seconda decade. Lavoro e denaro? Faticoso improprio, ma se rende bene a tenete duro, se poi ci vi consente di metterci la vostra anima e la vostra creatività il guadagno passa in subordine. Non che non conti, ma fare qualcosa che piace davvero è il più bel compenso che si possa immaginare. Affari e trattative più veloci del previso, come disse Cesare tornando dalle gallie, veni, vidi, vici. Serata piacevole ascoltando musica o facendo due chiacchiere tra amici, in casa l'atmosfera si fa pesante, ma fuori è tutto un altro film. La vostra figura dovrebbe acquisire qualche punto in più agli occhi dei vostri superiori. Forse la vostra creatività ha fatto breccia, vi assegneranno incarichi degni di voi e della vostra professionalità. I ragazzi dello scorpione che siano sui banchi di scuola o dell'università hanno la strada spianata su tutte le materie. In particolare sono favoriti in italiano e lingue straniere, specie se festeggiano il loro compleanno nel mese di novembre. Benessere. Il solito mal di schiena, quando si alza il vento lo sentite, specie se passate la giornata ingrugnati alla scrivania. Muovetevi, prendete i bastoncini da trekking e organizzatevi il weekend. A meno che, approfittando del carnevale, per sabato non abbiate in mente un ballo in piazza, con prudenza però, il virus non è ancora andato del tutto in pensione. Hai difficoltà in salute e nei rapporti con l'ambiente esterno, questo pregiudica di molto la situazione sentimentale. Tra le parti del corpo maggiormente colpite da malattie, di lunga durata, ci sono intestino e fegato. Per lei, adorate i vostri pupi e li soffocate di baci, talvolta fuori luogo. Ha ragione. Lui a tirare il freno, se gliele date tutte vinte un domani non sapranno combattere. E invece dovranno. Per lui, solite discussioni in famiglia, su cosa verteranno se non sulla vostra mancanza di tattica finanziaria? Eppure siete nati nell'ottavo segno, che di denaro dovrebbe intendersene. Sì, ma soprattutto di quello altrui, che vi arriva senza sforzo per eredità o premi assicurativi. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.